E' tutto pronto ormai per la terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, che domenica dalle 17 vedrà sfidarsi sulla pista e le pedane del Moreno Martini di Via delle Tagliate alcuni tre big dell'atletica leggera mondiale, 175 atleti provenienti da 37 paesi. Alla vigilia, conferenza stampa di presentazione in cui sono intervenuti, oltre al vicepresidente Virtus, Sergio Martinelli, e due direttori del Meeting, Matteo Martinelli e Paolo Traversi, l'assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, il consigliere della Fondazione Cassa Risparmio Lucca, Luca Marchi, il responsabile marketing, banca ed italiana assicurazioni Andrea Violante, e gli atleti, schierato in prima fila, Omar McLeod, formidabile giameicano che doppierà 100 e 110 ostacoli, Simone Bertelli, astro nascente col virtussino Matteo Liveri dell'asta azzurra, e la nostra Dea Pieroni, che dopo un periodo difficile è tornata a saltare pochi giorni fa a 1,86, che lascia ben sperare. Alacre, lavoro svolto a livello organizzativo dall'efficiente e ormai ben oliata macchina Virtus, si lavora ancora sul campo a sistemare, a cesellare con cura ogni dettaglio di pista e pedane, affinché il colpo d'occhio sia quello dei giorni migliori. Ci siamo! Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per creare tutti i presupposti, naturalmente nel rispetto dei limiti che comunque abbiamo e che dobbiamo prendere atto, ma abbiamo cercato di creare un cast veramente importante, abbiamo cercato di far sì che Luca ancora una volta possa vivere una giornata di atletica internazionale, mondiale, di livello veramente elevato, ora starà agli atleti e agli atleti rendere ancora più particolare, ancora più bella e magari storica una giornata di atletica leggera domani pomeriggio al Campo Scuola Moreno Martini. Idea Pieroni è una delle atlete più attese, la 21enne carabiniera sa che la gara di casa può essere una delle ultime occasioni di coronare un sogno chiamato europei di Roma, che ormai sono dietro l'angolo. È il mio obiettivo dell'anno, purtroppo quest'inverno e all'inizio stagione non ho potuto gareggiare e fare meeting all'estero per fare punteggio appunto poi per il ranking e per rientrare. Se facessi una certa prestazione risolverebbe molti problemi, molti calcoli. Vediamo domani come va, io sto bene, sono pronta, sono molto contenta, quindi non vedo l'ora.